Musica Un buon inizio di campionato che fa davvero bene sperare per il proseguo del torneo che si preannuncia difficile. Il Catanzaro di Moriero è partito col piede giusto in questa stagione. Sette puntine, tre gare. Un gruppo unito è sicuro delle sue potenzialità che potrà arrivare lontano secondo il centrocampista Stefano Maioranu. Sono contento per come stiamo facendo, giustamente si deve lavorare, è ancora lunga, è lunghissima. Stiamo a disposizione del mister, la squadra è forte, la rosa è forte. Chi entra fa sempre il suo, anzi vediamo bene l'evento, vediamo due domeniche fa chi entra e ti cambia la partita. E quindi questo sicuramente è una freccia in più nel nostro arco. La concreta possibilità ogni domenica di fare turn over è qualcosa che vi stimola o vi metto un po' gli ansia da questo compilismo? Personalmente è una cosa che a me piace, è una cosa che giusto come tu è stimolante. Ti porta sempre a dare al 100% nell'allenamento e quello che fai nell'allenamento alla fine lo porti la domenica. Grazie. 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 Grazie.